Infine le notizie dal nostro amato mondo non profit, vi segnaliamo che giovedì 24 novembre con ritrovo presso il cavalcavia Monte Ceneri Serra, attraversami cittadini, ciclisti e molte altre realtà milanesi organizzano il secondo presidio dal titolo Non vediamo l'ora, occasione per sollecitare l'amministrazione comunale alla realizzazione di una ciclabile sul ponte della Ghisolfa. Si tratta di un progetto in cantiere da anni ma mai realizzato. L'appuntamento è per giovedì 24 novembre alle ore 19. Per maggiori informazioni scrivete alla mail ciclabile ghisolfa.gmail.com